Ben trovati da TG della Mobilità, due manifestazioni nel centro oggi con possibili riflessi sulla viabilità. La prima a Piazza Bocca della Verità, la seconda a Piazza del Popolo. Sono possibili chiusure al traffico e deviazioni alle linee di bus. Le altre notizie. Da oggi a martedì 2 novembre, in occasione del periodo per la commemorazione dei defunti, è intensificato il servizio di autobus per i cimiteri cittadini. Oltre a questo weekend, le linee della memoria saranno implementate sabato 16 e domenica 17 ottobre e tutti i giorni da mercoledì 20 ottobre a martedì 2 novembre. I cimiteri interessati alle corse sono Flaminio, Laurentino, San Vittorino, Santa Maria Galeria, Ostia Antica e il cimitero monumentale del Verano.